Salve a tutti signori e signori, benvenuti in quest'ultima parte di Super Smash Bros. Come sapete e potete vedere, non abbiamo sbloccato tre personaggi nascosti. Questi personaggi nascosti sono Capitan Falcon, Ness e Luigi. Per sbloccarli bisognerà compiere determinate sfide in questa modalità di gioco. Per quanto riguarda Capitan Falcon, finisci una modalità giocatore in 20 minuti e sconfiggilo quando vi sfida. Per quanto riguarda Ness, termina una modalità giocatore normale con tre vite e senza usare continua e sconfiggilo quando vi sfida. Per sbloccare Luigi, finisci test target per tutti i primi otto caratteri, senza personaggi sbloccabili e sconfiggilo quando vi sfida. Quindi ragazzi, io adesso vi devo lasciare, questa guida ormai è giunta al termine, vi auguro un buon Natale, a presto!